Basta operazione antimafia in Sicilia, nel Nisseno. I carabinieri di Caltanissetta stanno eseguendo su richiesta della DDA un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di una cinquantina di presunti affiliati al clan San Filippo di Mezzarino. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti, detenzione di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Nelle indagini gli inquirenti hanno fatto luce su due omicidi con il metodo della lupara bianca nel 1984 e nel 1991.